Prima messa di Natale in Vaticano per Papa Francesco, nella nostra vita si alternano luci ed ombre, se amiamo Dio camminiamo nella luce, se prevalgono orgoglio e interesse, siamo nelle tenebre, ha detto il Pontefice. I pastori sono stati primi a vedere Gesù perché erano tra gli ultimi e gli emarginati, oggi la benedizione urbi e torpi. In un colloquio con il Premier Letta Napolitano esprime le sue critiche sul decreto Salva Roma, appesantito in Parlamento da troppe aggiunte che lo hanno snaturato e Palazzo Chigi ritira il provvedimento su cui aveva posto la fiducia. Alcune norme, compresa quella sui cosiddetti affitti d'oro, saranno inserite nel decreto mille proroghe. La temuta tempesta di Natale ha colpito il nord Europa con piogge torrenziali e venti fino a 150 km orari. Cinque vittime in Gran Bretagna dove gli aeroporti sono andati in tilt, problemi anche in Francia e Olanda. Nelle prossime ore il maltempo è atteso sull'Italia, allettamento in Liguria, Toscana e Lazio. In Nord America, 11 vittime per neve e gelo. Situazione sempre più difficile in Egitto dove il Premier ha dichiarato organizzazione terroristica a fratelli musulmani dopo l'attentato ad una stazione di polizia che ieri ha provocato 14 morti e oltre 130 feriti. Ha arrestato il Premier del deposto, presidente Morsi Candil. Buongiorno, auguri di Buon Natale e benvenuti a questa prima edizione del Telegiornale della Sette. Dunque, primo Natale per Papa Francesco in Vaticano che ieri sera in una basilica davvero gremita ha celebrato la Santa Messa. Papa Francesco ha detto che i pastori sono stati i primi a vedere Gesù proprio perché erano tra gli ultimi e gli emarginati. Nella sua preghiera ha ricordato però anche tutti quelli che sono perseguitati a causa della fede. Ed oggi grande attesa per il suo messaggio Urbi e Torbi. Anche nella nostra storia personale si alternano momenti luminosi e oscuri, luci e ombre. Se amiamo Dio e i fratelli, camminiamo nella luce. Ma se il nostro cuore si chiude, se prevalgono in noi l'orgoglio, la menzogna, la ricerca del proprio interesse, allora scendono le tenebre dentro di noi e intorno a noi. Parla così ai fedeli Papa Francesco nella sua prima Messa di Natale dedicata agli ultimi, agli emarginati. A concelebrarla con lui altri 300, tra cardinali, vescovi e sacerdoti. Si inizia dall'antico canto della calenda, intonato da un coro di 80 elementi che annuncia la nascita del Bambin Gesù e ricapitola la storia in attesa del Signore. Subito dopo la processione d'ingresso, il suono delle campane della Basilica accompagnano il Santo Padre verso il presepe, allestito all'interno della Basilica con in mano l'immagine del bambinello, deposta poi nella mangiatoia. I brani biblici sono letti in inglese, italiano e spagnolo. Il Vangelo viene proclamato in latino e le preghiere dei fedeli in aramaico, francese, cinese, italiano e polacco. Per antichissima tradizione, la Chiesa celebra questa Messa nella notte per ricordare il silenzio che avvolgeva il mondo prima della rivelazione della parola di Dio e le tenebre che nascondevano la notte prima che la luce del Signore rivelasse ai pastori l'annuncio della nascita di Gesù. Il Papa conclude con un invito a condividere la gioia del Vangelo. In Gesù è apparsa la grazia, la misericordia e la tenerezza del Padre, dice. Il prossimo appuntamento di Papa Bergoglio con i fedeli è a mezzogiorno con il messaggio natalizio e la benedizione urbi e torbi. E nel suo discorso alla messa natalizia di mezzanotte a Betlemme, il patriarca latino di Gerusalemme ha lanciato un appello ad una soluzione giusta ed equa del conflitto israelo-palestinese. Alla cerimonia che si è svolta nella piazza della Mangiatoia erano presenti il presidente dell'Associazione Nazionale Palestinese Abou Mazen e il capo della diplomazia dell'Unione Europea Catherine Ashton. Il prelato ha ricordato anche tutti i drammi dell'umanità nei cinque continenti, dalle guerre civili in Africa al tifone nelle Filippine, passando dalla difficile situazione in Egitto all'Iraq e alla tragedia siriana. E veniamo alla politica, perché con una mossa davvero inaspettata, il governo, come avete sentito anche dai titoli, ha deciso di ritirare il tanto contestato decreto salva Roma. Determinanti sono state sicuramente le perplessità espresse dal capo dello Stato su un provvedimento che era diventato davvero molto diverso da quello che era stato pensato dall'esecutivo. La tanto contestata norma sugli affitti molto onerosi di cui si è parlato in questi giorni finirà, a quanto pare, nel decreto mille proroghe. Vediamo. Vigilia di Natale con sorpresa per il Parlamento. Il governo, che solo due giorni fa aveva chiesto e ottenuto la fiducia sul cosiddetto decreto salva Roma, decide nel tardo pomeriggio di ieri di rinunciare alla conversione dello stesso provvedimento. A Palazzo Chigi la decisione è maturata dopo un colloquio tra Enrico Letta e il Presidente della Repubblica Napolitano, che stoppa il testo perché numerosi emendamenti avevano di fatto snaturato e appesantito di tante norme che non presentavano certo il carattere di urgenza, richiesto appunto allo strumento del decreto legge. Ora, le situazioni indifferibili, informa il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Franceschini, saranno regolate dal Consiglio dei Ministri, già convocato per il 27 dicembre, per il varro del tradizionale decreto mille proroghe. In quell'occasione saranno ripristinati anche i finanziamenti per la Capitale alla base dello stesso decreto salva Roma, che nei giorni scorsi era finito al centro di durissimi scontri parlamentari, in special modo a causa dei cosiddetti affitti d'oro. Contro di esso, infatti, si era scatenata soprattutto l'opposizione della Lega e del Movimento 5 Stelle, che contestavano in particolare l'articolo che impediva alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali di disdire i contratti di affitto, anche se particolarmente onoreosi per i bilanci. Ma non erano mancati gli attacchi di Forza Italia e addirittura le perplessità di una parte del Partito Democratico, che criticava il calderone in cui si era trasformato il provvedimento, fino a prevedere anche una mini sanatoria per prefabbricati realizzati in aria demaniali. Ovviamente all'annuncio della rinuncia della conversione in legge del decreto, eseguita una caustica serie di reazioni delle opposizioni, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Brunetta, parla di governo retta, sempre più in stato comatoso, che qualcuno dall'alto stacchia più presso la spina. E i grillini festeggiano, è una nostra vittoria, abbiamo costretto il governo a battere in ritirata, ma anche la maggioranza apprezza la retromarcia di Palazzo Chigi. Le vicende della conversione del cosiddetto DL Salva Roma, dice il capogruppo al Senato Zanda, sono la spia di una grave e profonda degenerazione del processo di formazione delle leggi. Troppi decreti, leggi, troppi provvedimenti omnibus sulle più disparate materie. E anche il nuovo centrodestra disconosce il provvedimento. Ritirarlo è stata una decisione saggia, dichiara Cicchitto. Come abbiamo sentito dunque, le opposizioni cantano vittoria, ma tutto sommato anche alla maggioranza non dispiace questo passo indietro del governo per un provvedimento che, lo abbiamo sentito, aveva creato davvero molti problemi e molte situazioni di tensione. Vediamo allora come si era arrivati a questo testo. La decisione ieri di Napolitano sul decreto Salva Roma di sicuro ha rovinato il Natale a molti, senatori e deputati e anche lobbisti. I parlamentari nei mesi passati infatti hanno avuto grosse difficoltà a saltare sul carro della legge di stabilità, tra Gataletta monopolizzata come era dal tema delle tasse sulla casa. Troppi riflettori puntati hanno quindi ripiegato silenziosi sul decreto legge Salva Roma, in origine concepito come ciambella di salvataggio per ripienare il buco di quasi 900 milioni che il sindaco Marino ha trovato nel bilancio della capitale. E così, mentre in commissione bilancio ci si arrovellava sulla struttura delle nuove tasse sulla casa, giorno dopo giorno il Salva Roma ingrassava di provvedimenti che presi singolarmente magari erano anche passabili, ma a leggerli così uno di fila all'altro ricordavano le leggi mancia della Prima Repubblica. Si parte con le elargizioni alle città, un milione a Frosinone, uno per il restauro del palazzo municipale di Sciacca, mezzo milione per il comune di Padre Pio, Pietralcina, e altrettanto per la torre anticorzara di Portopalo, 3 milioni a Pescara, 25 a Brindisi. Si passa poi ad un pizzico di turismo, una mini sanatoria per i chioschi abusivi sulle spiagge, idem per bungalow e manufatti illegali, la possibilità per i comuni isolani di mettere una tassa sugli sbarchi alternativo superiore a quella di soggiorno, una spruzzata di sostegno al trasporto pubblico, fondi per i trani valdostani e calabresi, e un po' di cultura con norme varie per i teatri San Carlo e Fenice, Napoli e Venezia. Meritoria, certo, la norma che prevede un ufficio della direzione antimafia allo scalo di Malpensa con l'expo alle porte, fino al Comba che ha colpito più di tutti l'immaginazione dei cronisti lettori cambiare le lampadine dei semafori con quelle nuove a risparmio energetico. Vedremo in questo mare magnum di provvedimenti quelli che sopravviveranno nel mille proroghe. E sembra avviata verso una soluzione positiva la vicenda di quelle famiglie italiane bloccate in Congo nell'attesa di poter tornare a casa insieme ai figli adottivi. La buona notizia per le 24 famiglie è arrivata ieri sera direttamente dalla presidenza del Consiglio. È stato lo stesso Enrico Letta infatti ad attivarsi telefonando al premier del Congo, Matata, ricevendone l'assicurazione che la questione sarà risolta in tempi rapidi. Le famiglie italiane erano arrivate nel paese africano dopo aver completato tutte le procedure per le adozioni, ma le autorità di Kinshasa avevano finora negato in nulla ossa per l'espatrio dei bambini adottati. Per le prossime ore dunque è attesa una soluzione positiva della vicenda. E veniamo alla protesta degli immigrati nei centri di accoglienza italiani. Cinque dei nove immigrati che a Ponte Galeria si erano cuciti le labbra per protesta hanno deciso di interrompere questa protesta. Intanto a Lampedusa sono stati trasferiti la maggior parte degli immigrati, ne rimangono soltanto 17, rimane lì anche il deputato del PD che continua la sua protesta. Nel giorno di Natale il centro di accoglienza di Lampedusa e il presidio di frontiera al centro di scandali, proteste e polemiche è vuoto, semideserto. Ieri dopo l'intervento del Ministero dell'Interno i 169 migranti che rimanevano sono stati trasferiti con un ponte aereo a Roma, Palermo e Crotone destinati ad altre sistemazioni. Sull'isola rimangono ancora 17 profughi, superstiti dei naufragi del 3 e dell'11 ottobre scorso che devono essere sentiti come testimoni dai magistrati di Agrigento e Palermo che indagano sulle due stragi del mare. Insieme a loro è rimasto a dormire il parlamentare del PD Khaled Chauqi che da tre giorni si è barricato dentro il centro per protestare contro le condizioni della struttura e per chiederne la chiusura, almeno temporanea, almeno fino a che si ripristini un livello di organizzazione dignitoso. Resterò fino a che non saranno stati tutti trasferiti, dice. Stiamo proseguendo il dialogo con il Governo, aggiunge, per fare andare via da qua anche 17 superstiti. Secondo il deputato del PD i nodi giuridici sarebbero comunque stati sciolti e dunque il gruppo dovrebbe essere trasferito nelle prossime ore. Insomma, otto giorni dopo il video della vergogna, con quei migranti nudi in fila all'aperto spruzzati con la pompa per la doccia antiscabbia, con la condanna dell'Europa e il conseguente allontanamento dei responsabili della struttura, la situazione a Lampedusa sembra essersi sbloccata e il Governo studia una soluzione politica al problema dei migranti in seguito all'annuncio del Premier Enrico Letta di voler revisionare sia la Bossifini sia l'intero sistema dei centri di accoglienza. E veniamo alla vicenda Shalabayeva perché la moglie dell'ex oligarca kazako Ablyazov potrà lasciare il Kazakistan. Ieri ha chiamato, la donna ha chiamato il ministro degli esteri Emma Bonino per ringraziarla del suo interessamento e proprio una vicenda intricata, quella che era partita dall'Italia con un'operazione di polizia che il 31 di maggio aveva portato all'espulsione del nostro paese della donna e della figlia. È la Svizzera con ogni probabilità la nuova destinazione per Alma Shalabayeva e la figlia di sei anni. La loro libertà vigilata in Kazakistan è finita ieri, vigilia di Natale, dopo mesi di travaglio diplomatico che hanno finalmente prodotto gli effetti sperati. Alma Shalabayeva è infatti libera di lasciare lo stile Kazakistan e se era stata l'Italia a fine maggio a consegnarla alle autorità kazache con una operazione lampo molto discussa e ora è stata l'Italia a lavorare per rimettere le cose a posto. L'avviso di restrizione è stato annullato con il pagamento di una cauzione e Astana ha fatto sapere che si è trattato di una decisione presa accogliendo le richieste del governo italiano. Così la moglie dell'ex oligarca Mukhtar Abliasov ieri ha voluto chiamare la farnesina e ha ringraziato personalmente Emma Bonino per l'assistenza ricevuta. Ma non mi ha detto dove andrà adesso, ha precisato il ministro degli esteri. Shalabayeva e la figlia hanno ricevuto due nuovi passaporti dalle autorità kazache e nella nostra ambasciata gli è stato consegnato il visto di Schengen per tornare in Europa. È stata premiata la nostra costanza, ha spiegato Emma Bonino, un lavoro delicato dopo lo scandalo e la polemica politica seguita all'operazione della polizia italiana che portò il 31 maggio all'espulsione della donna e della figlia e alla loro consegna alle autorità kazache. Il ministro dell'interno Alfano si difese affermando di non essere stato informato e a pagare furono il capo di gabinetto del Viminale e il capo della segreteria del dipartimento di pubblica sicurezza. Su quella vicenda che per molti fu una cortesia al presidente kazaco Nazarbayev è ancora in corso un'inchiesta della procura di Roma. Il marito Mukhtar Ablyasov è invece in carcere in Francia in attesa di sapere se verrà accolta la richiesta di estradizione presentata da ben tre paesi Russia, Ucraina e lo stesso Kazakistan. Ingenti danni e vittime per l'ondata di maltempo che sta colpendo l'Europa la situazione più difficile in Gran Bretagna dove si contano già cinque morti ci sono state diverse inondazioni blackout e molti voli cancellati la perturbazione raggiungerà in queste ore anche l'Italia ma non va meglio oltreoceano dove è in atto una tempesta di ghiaccio negli Stati Uniti. È la furia della tempesta di Natale abbattutasi sul nord Europa piogge torrenziali e venti forti fino a 150 km orari che hanno colpito Francia Olanda e soprattutto la Gran Bretagna dove si registrano cinque vittime un vortice ciclonico che in Bretagna non dimenticheranno mai così come non lo scorderanno le decine di migliaia di persone rimaste nelle loro abitazioni senza elettricità caos in aeroporti e stazioni ferroviarie tranne in ritardo e voli cancellati limitato anche il collegamento tra l'aeroporto di Gatwick e Londra mentre nello scalo di Itro 16 voli sono stati annullati e un'altra violenta ondata di maltempo in questi giorni sta colpendo Stati Uniti e Canada con piogge ghiacciate nevicate in raffiche di vento fino a 170 km orari in tilt per il gelo i generatori di energia elettrica a Toronto un uomo di 52 anni e la madre settantenne hanno perso la vita per intossicazione da monossero di carbonio emesso da un generatore acceso per riscaldarsi dopo il blackout elettrico provocato dalla tempesta di ghiaccio decine di migliaia di persone sono bloccate negli aeroporti internazionali notte difficili quella di Natale non solo in Inghilterra Scozia Irlanda del Nord anche in Francia dove si registra una vittima e oltre 200.000 case rimaste al buio problemi anche in Spagna e da oggi allerta anche in Italia piogge temporali sono previste prima al centro nord e nord ovest nevicate abbondanti sulle Alpi e venti forti cresce il rischio di mareggiate e nubi fragili nella zona della Liguria nella notte di Santo Stefano invece le perturbazioni più violente si sposteranno al centro sud allerta meteo nel Lazio a Roma poi Toscana e Sardegna e ci spostiamo in Egitto dove è sempre più difficile la situazione dopo l'attentato ad una stazione di polizia il governo ha deciso di dichiarare la fratellanza musulmana organizzazione terroristica ed è stato anche arrestato l'ex premier del deposto presidente Morsi un attentato contro una caserma della polizia poi nella notte l'arresto dell'ex premier Isham Kandil legato al governo deposto in luglio dell'ex presidente Morsi e ai fratelli musulmani si chiudono anche gli ultimi spiragli verso una qualche riconciliazione tra il nuovo regime retto dai militari e la vasta opposizione interna sempre di più prendono piede i gruppi armati che da più di un mese hanno moltiplicato gli attacchi e gli attentati non è bastata la condanna dell'attentato di Mansura espressa dai dirigenti in esilio a Londra dei fratelli musulmani un attacco diretto contro l'unità del popolo egiziano l'hanno definita accusando il governo di utilizzare questi atti di violenza per i propri scopi sono un'organizzazione terroristica e non daremo loro tregua era stata la risposta preventiva del capo del governo insediato dalle forze armate Beblaui un muro contro muro che rischia di aggravarsi nei prossimi giorni fra tre settimane in Egitto si tornerà a votare in un referendum di revisione costituzionale riforma voluta dai militari e osteggiata da tutto il fronte delle opposizioni rimaste fedeli all'ex presidente Morsi la definizione di associazione terroristica da parte del governo potrebbe però portare alla totale messa al bando dell'organizzazione dei fratelli musulmani e alla chiusura di ogni spazio politico rimasto dopo cinque mesi di potere militare e al passaggio alla clandestinità dei fratelli musulmani che finora avevano vinto tutte le elezioni del dopo Mubarak e siamo allo sport con il calcio fermo il campionato la tensione tutta rivolta al mercato di gennaio che aprirà il tre in prima fila Inter e Milan ma la Lazio deve ancora risolvere la questione allenatore sulle ali dell'entusiasmo post derby l'Inter Ditoir si rituffa nel mercato di gennaio il movimento in uscita più importante riguarda il colombiano Freddy Guarin centrocampista molto gradito a Mourinho da inserire nello scacchiere del suo Chelsea al momento però la base di 15 milioni su cui si tratta è giudicata eccessiva dal club di Abramovic che preferirebbe inserire una contropartita tecnica per abbassare il costo forse il terzino Bertrand Toir è volato negli Stati Uniti dove trascorrerà il Natale ma Londra ha gettato le basi col Paris Saint Germain per una veloce trattativa per il Pocio Lavezzi che sarebbe entusiasta di ricongiungersi a Mazzarri in nerazzurro l'alternativa all'argentino sarebbe il brasiliano Lucas c'è anche l'ipotesi Eric Lame la stufo della Premier League l'argentino tornerebbe volentieri in Italia ma su di lui c'è la forte concorrenza del Napoli se il Tottenham lo libererà l'Inter punta a un prestito visto l'elevato costo del cartellino i grandi cambiamenti del Milan saranno a giugno quasi certo ormai l'arrivo di Sedorf in panchina ma già a gennaio ci saranno importanti innesti dopo Rami in arrivo il giapponese Honda Milan molto vicino anche al centrocampista del Cagliari Nainggolan tra domande offerte abbalano circa 750 mila euro ma prima di chiudere con Cellino Galiani attende il definitivo via libera del presidente Berlusconi nonostante la prima parte della stagione trascorsa in tribuna a fare il tifo il Sharawi continua ad avere mercato nelle ultime settimane hanno bustato alla porta del Milan il Galatasaray e l'Arsenal che già in estate aveva fatto un tentativo la Juve pronta a sfidare la Roma con Pirlo al rientro dopo la sosta sogna per giugno l'arrivo dell'argentino Di Maria in rotta con Real Madrid come scrive la stampa spagnola sul fronte Lazio in stand by ritorno di Edireia perché Lotito deve prima trovare un accordo economico con Petkovic il futuro tecnico della Svizzera non intende infatti di mettersi e fino a giugno ci sono in ballo 600 mila euro ed era l'ultima notizia per questa edizione il prossimo appuntamento con l'informazione alle 13.30 per tutti gli aggiornamenti il sito internet tgla7.it e l'account Twitter adesso lascio spazio alle previsioni del tempo di Paolo Sottocorona da tutta la redazione del telegiornale un sereno Natale